Secondo appuntamento con la Fontana della Maruzza, siamo in zona Via Marina, siamo in zona Portosalvo, alle nostre spalle c'è questa fontana che è stata ridata ai napoletani, sentiamo anche chi ha restaurato e soprattutto l'intervento che è stato fatto. Poi Gaetano Brunetti ci aggiungerà ancora un passaggio legato a quello che era la zona, a quello che era il mandracchio che abbiamo già spiegato nella prima puntata. Fontana della Maruzza, siamo nella zona di Portosalvo, siamo con le restauratrici di questa bellissima fontana che ritorna ai napoletani. Un lavoro importante, un lavoro fatto soprattutto per ridare alla città una fontana tradizionale. Esatto, la fontana si trovava in pessime condizioni perché a causa del degrado ambientale, a causa del calcare che si era depositato in particolare sul marmo e sulla conchiglia e anche per lo stato di abbandono della zona per cui c'erano diversi barboni o comunque c'era un luogo di abbandono e di deposito anche di materiali di altro tipo. L'intervento di restauro ha riguardato soprattutto la pulitura e quindi la rimozione delle crosse calcare e dello sporco tramite impacchi e poi la protezione, la stesura di un protettivo naturale in modo da permetterne la conservazione. Ora tutto sarà nella manutenzione per mantenerla nel futuro. C'è una parte molto bella anche dietro, la lumaca, la maruzza è una sorta di conchiglia che purtroppo è spezzata, forse nel tempo non è stato possibile recuperarla. No, in realtà la fontana è una fontana storica e quindi viene trattata come opere storiche, sono trattate nel senso che le ricostruzioni di parti molto importanti o gravemente ammalorate non si fanno perché sarebbe un falso, noi non possiamo sapere com'è visto che è una fontana molto antica. In più c'è ovviamente come in tutti i lavori di restauro l'alta sorveglianza e la sovrintendenza che ovviamente impone certi canoni che sono anche abbastanza rigidi per il restauro, noi siamo del tutto d'accordo perché c'è questo che è anche già importante così, non c'è bisogno di ricostruire quello che non si vede più. Questa fontana fu costruita in concomitanza con la chiesa di Santa Maria di Portosalvo nel Cinquecento, fu voluta dalla corporazione dei marinai perché questo all'epoca era un antico mandraccio dove avvenivano scambi commerciali di animali o cose e non aveva una grande fama perciò nell'Ottocento venne distrutto a buona parte ad opera del vecchio risanamento.